Noi dell'ARPAC, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, controlliamo il mare per garantire bagni sicuri da maggio a settembre. Voi cittadini aiutateci a proteggerlo questo mare, non gettate già da casa materiali negli scarichi, non inquinate le spiagge, le acque, non navigate vicino alla riva. Chi teneo mare, ce teneo mare. Grazie a tutti.